Aura, che è successo? Cos'hai? Ancora un femminicidio, lui ha aspettato che lei uscisse di casa e poco prima delle otto, poi l'altri, l'ha uccisa a coltellate, almeno dieci, quelli che hanno raggiunto la donna e che le sono state fatte. Soltanto adesso trovo cura che parla, portati addosso tutti i feriti e chi nulla. Io per paura evitavo chi nulla, sono sicura che mi face vabbava. Sei la mia amica, è una amica da da sta, sembra vicina, sola non ta, da mai lasa, mai. Prezende tutto e usa la violenza su di me. Non avem mani, non succo, non giocava, o fana sulle di ea che l'alancava. Passa lui non può cambiare, lascia l'andare, ci sponghi è potente. Soltanto adesso trovo cura, non giocava, ma giocava, ma potre mille aricate, ma riuscita che lui ha la testa fatta e che si cazza. Se lo lascio e vado via. Dai fallo adesso, parla con il tuo papà, sai che non posso stare qui sulla guarda. Lo penso spesso, ma non giocava, ce lo fa. E volte in caso, tutte golpe chi nulla. Ma desubasta, ma merita varita, non ti ho merita, Lo penso, ma non giocava, ma non giocava, o fana sulle di ea che l'alancava. Passa lui non può cambiare, lascia l'andare. Ma non giocava, ma non giocava, ma non giocava, ma non giocava. Nessuno ti dà il diritto di mettere le mani addosso ad una donna. E se lo hai fatto, vergognati. E non farlo mai più. E non giocava, ma non giocava, mai più, ma non giocava. Grazie a una femmina si è nato e grazie a una femmina si è cresciuto E sempre grazie a una femmina un mondo va in alza Perciò porto il rispetto per le donne Noi siamo solamente l'interprete di questa canzone A me hanno insegnato a portare rispetto alle donne Giulio Marizzone Grazie a tutti Grazie per la visione!